Ciao, sono Nicoletta, sono designer e creative director di Become One. Become One significa diventare uno. Arte e moda, che sono le mie due più grandi passioni, diventano una cosa sola nel brand che ho deciso di creare. Durante il periodo del lockdown ho iniziato a disegnare qualcosa che volevo indossare in quel preciso momento. Mio fratello è la persona di cui mi fido di più su questa terra. È bellissimo lavorare insieme perché lui è la tranquillità, io sono la pazzia e ci completiamo. Fin da piccola ho sempre cercato di ritagliarmi dei momenti in cui io devo stare completamente da sola, in cui potessi essere libera di creare, libera di stare anche da sola e vivere la mia solitudine. Io ho trovato in Become One il mio spazio creativo, il mio spazio d'incontro che permette alla mia personalità di crescere e di arricchirmi sempre di più confrontandomi con idee di persone sempre diverse.